Musica Ciao a tutti ragazzi, benvenuti qui nuovamente su Walls PvP Questa volta sulla prima mappa e non sulla seconda Perché mi pareva un po' opportuno cambiare Dato che la seconda mi sembra un po' troppo confusionaria Sta qui sembra molto più semplice, molto più tattica Ehm... Oggi non siamo 2 vs 2 Ma siamo 2 vs 2 vs 2 Io sono qui con Samuel, Samuel puoi anche salutare Ciao a tutti Questa volta ci siamo divisi direttamente subito per non perdere ulteriore tempo E sono già tutti quanti nelle postazioni Le regole le sapete, se non doveste saperle Lascerò magari le regole in descrizione E nient'altro, insomma tutto qui Ehm... Potete consigliarmi inoltre Map PvP che conoscete, nel quale magari possiamo giocare Quindi se avete qualche mappa PvP carina da giocare Tipo Walls PvP, Cluster Chunk Ne cito un'altra che giocheremo tra l'altro Che forse caricherò un video al riguardo Ehm... Quindi se avete altre mappe PvP Ditemelo Io provvederò a chiamare un po' di gente a farle Quindi non ho altro da aggiungere Le regole le potete leggere velocemente qui Vi faccio uno sprint veloce delle regole Non si può sostanzialmente distruggere il muro di sabbia Prima dei 15 minuti Dopo i 15 minuti il muro di sabbia cadrà E per il resto dobbiamo semplicemente scavare Cercare di prendere risorse E prepararci per la battaglia finale che avverrà Dopo i 15 minuti E vi ricordo che vince una sola persona Quindi non ci potranno essere due vincitori Ma solo uno Quindi dovremmo uccidere anche il nostro compagno di squadra Ma questo dopo aver ucciso ovviamente tutti Non aggiungo altro Ehm... Godetevi la battaglia A dopo Ok ragazzi eccoci Stiamo partendo Poi durante il video vi spiegherò più con calma Ciao Ciao Marco corri Eh allora io prendo subito Lenny Sì sì subito Lenny si fa veloci Ragazzi come ho detto Se è una 2 vs 2 vs 2 Avevamo in mente di far una 2 vs 2 vs 2 vs 2 C'è giocatori tutti quanti da 2 E lo so perché devi mettere la distanza basso È normalissimo C'è la redstone Che devo fare? Mettiamo Eh... Mettiti la grafica al minimo Metto tiny va Qua c'è una cesta E lo stavo rompendo Ne ho detto di mettere giorno Mettiamo giorno così Allora Ho cercato di mettere il render distance al minimo ragazzi Se l'aga poi Capita Allora l'opzione Adosta? Eh render distance Abbassare Volevo vedere Volevo stare anche qualcos'altro Vediamo se Particles minimal Eh... Vediamo se vi è Bobbing Smooth lightning Off Off on Non so cosa era Non so No, così dovrebbe laggare me No, lagga di più Ok Samuel hai preso la cesta? Ragazzi mi scuso nuovamente se la lag... Ci sarà un po' di lag ma... Cercate di capire che questo non dipende da me ma è proprio la mappa che... Ha talmente c'è tanti circuiti in redstone che fa laggare a bestia... Ma ma come al solito... Ma come al solito... Sono sempre così steno app... Da... e quindi non non se il video lagga non vi lamentate con me perché non è colma mia... Non ho idea quante lagga potrebbe esserci... Samuel bisogna chiudersi in caverna come delle talpe... Vieni giù Che sono attiombrando quest'ultimo costo... Mappa frango Ehm... Ho deciso poi... Volevo portarvi oggi una nuova mappa a dire il vero... Dovamo gi... Ho gi... Avamo girato una parola... Una parte su cluster chunk... Ma proprio che mi era stata... Una mappa che mi era stata consigliata... Però... Era troppo... Cioè è stato... Cioè è stato... Cioè è stato troppo bordello... Non so neanche se la caricherò quella partita... Comunque... Sicuramente far registrano un'altra partita su cluster chunk... Questo è poco ma sicuro... E quindi aspettatevela presto... Ehm... Per ora... Tutetevi questa partita... Insomma di... Wallsfield P... Che so che vi piace... Comunque Wallsfield... Me l'avete chiesto di fare altre partite... Divertitevi... Sì esattamente... Sto craftando un altro piccolo per te... Ehm... Sì io sto facendo gli animali... Prendi... Non prenderne troppo... Prendi un po' Prendi un po' Poi dopo ci chiediamo in miniera... Va bene? Non lo so... Ce n'è poco... Cioè già ce n'è pochissimo... Ehm... E niente... Poi se avete nei commenti... Chiedete... Cioè scrivetemi se conoscete qualche mappa... PvP... Bella da giocare... Tipo a squadre... Queste modalità strane... Ehm... Un po' diverse dal solito... Se ne avete... Cioè ditemelo... Ma datemelo come messaggio... Poi dopo io le faccio sicuramente... Adesso che so che vi piace... Non l'avevi già detto questa cosa... Io le dico... Ok... Siamo alla vieni che c'è un po' con la apertà... Un attimo... Un attimo... Un attimo... Questa cosa... Ma questa cosa si chiama una gallina... Mori... Oddio... Sì ma dai basta... Che sennò poi non ce la faccio... Perché allora... Qua è una questione... Di chi prende più materiale... Anche ho fatto... In poco tempo... Ci sono... Devi come... Tieni un piccone... Cominci a scavare come nerda... Come non hai mai fatto... Prendi... Cominci a scavare... Io crafto già due fornaci... Anzi quattro... Ne crafto più che posso... Ok... Cazzo sta piccone... Ti lascio qua... Tutto il mangiare... C'è... Tranne le tre mele... Me le porto... Ok... Piazzate le fornaci... Così... Bisogna mettere a cuocere... Che è un po' di qua... Non lo teniamo... Tu scava... Eh bisogna trovarlo... Riesci a vedere tu... O ti servono delle torce... Io non so... Non tu tre... Vabbè però adesso riesco a vedere... In caso dammene due... Due o una... Non lo so... Cioè tu devi andare a scavare... Sì... Bisogna scavare entrambi... Siamo qua... È una questione di chi riesce a fare... Più roba possibile... In quindici minuti... Quindi bisogna essere veloci... Più o fino a qua... Non so che cosa cazzo sto dicendo... Lagga un po' Ma io la sto laggando adesso... Io sì... No no... Ma lagga... Scatti o lagga un po'... Ok... Ho trovato una caverna... Vedi se c'è da un coal... Si trovi del coal... Lagga un po' Come non sta laggando con mai? Con nove pezzi di ferro... Si c'è da un coal... Ok porta... Prendi il coal e portalo su per favore... Ma delle caverne non possiamo arrivare a trovare gli altri? No no... C'è la bedrock... Ok... Però mi devi... Portami sul... Eh fammelo guigliare... Guiglio tutto... Ho cresciuto di gente... Ovviamente come ho già detto nello scorso video... Queste qui sono delle vene di ferro... O comunque di minerali fatte... Grate da chi ha creato la mappa... Quindi non è... Cioè è normale che trovi così tanto ferro... In così poco spazio... Che ti ho trovato tanto ferro? Madonna... Sto trovando solo ferro... C'è un po' se facciamo un'arma già un'armatura a full ferro... Per dirti... Mh... Sto venendo... Madonna se l'aggo... Io non sto la gamba... Adesso si un pochino... Adesso si... Non c'è comunque di chiudere tutto quello che hai... Cercare di farlo vedere il meno possibile... Nella prima fornace in basso a sinistra... Ti ho messo i cosmettoni... Metti il col... Metti il col... Dentro... E qua c'è me dice del ferro... Sai? Voi hai messo il col... La lonti... La lonti... La lonti... La lonti... Nella lonti... Ah no nella lonti... Lonti lonti... C'è ancora tu prendi... Muoviti 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 muoviti... Aspetta sto prendendo quel ferro... Dai muoviti... Il ferro ti sto prendendo... Perché è morto e quittato? Sarà cresciato? Tiè... Tiè... Ok... Porta una torcia... Ok... Allora abbiamo abbastanza ferro direi... Cioè ci siamo già messi bene... Mi laggando... Mi sta laggando anche male... Quanto ferro che c'abbiamo... Siamo fuori ferro... Tra un po' Ma almeno io so fuori ferro... Sì qua sto trovando oltre di ferro... Ah iiii... Ah se il col... Messo l'advento... E ti ho dato tutto a non rompere le balle... Questa sta laggando... Questa sta laggando... Poi ogni tanto... Ah al vero tu non puoi vedere che cazzo dì... Cosa non ti ho dato... Vedere quanto manca... Oh che cazzo ha... Trovato... Oh bello 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 bello... Cavernosa caverna cavernosa... E l'hai fatto tutta da loro queste cose? Sì... Vediamo che mi sta laggando un po' in pazzo... No 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 cazzo da fare... Da una persona... Soltanto... E' una persona che fa tutte queste cose? Una persona che fa tutte queste cose... Sì... Comunque... Qui c'è una lagg assurda... Eh perché secondo te qua no? No ma a questo punto... A me sta io sto laggando un po' in pazzo... D'altro ora... Un bimbo paxeralla... Esce il sole a prendere l'ombrello... Cazzo ridi... Cazzo ridi che demoni... Si è quasi rotto il piccone... Wow... E' molto nella lava... Ti rendi conto? Sì... Cazzo si fa... Ma muoio anch'io... Vabbè... Dettagli... Ok siamo full ferro entrambi... Questo è poco... Ho 11 di ferro ancora... Uh bene... Serve altro qual? Eh... L'ho preso... Ne so prendo un po' io... Vedi tu... Boh... Siamo messi bene... Full ferro... L'importante è avere delle buone armature... E avere buone cose insomma... Quindi quello è l'importante... Poi per il resto... Se ne fotti... Comunque vengo sopra... E faccio un piccone in ferro... Mui vengo sopra e... Ti do una mano... Allora... Ehm... Però ti voglio venire sopra... Che queste battute mi sale e lasciamo... Dimmi quanto manca... Quando sali per favore... Vieni che ho trovato... Così tanto materiale... Che me bisogna mettere a cuocere... Che sennò qua... Poi dopo non ce la fa finire... 41 di cuore... Lag... Nel lag... Mi piace a mia sorella che... Che se mi finisce tutti i soldi al cellulare... L'ammazzo... Assisterete ad un omicidio indiretto... Nel lag... Dipinto di blu... Perché io c'ho pochissimi soldi... Si è fottuto il mio telefono... Con la scusa che devi fare il vili... No davvero dico... No con la scusa che gli ho detto... Vabbè vattene... Ehm... Quanto manca... Non l'hai visto? Un attimo... Vedi un figlio mio... Calmo... Mi rimancheranno tipo... Ah dov'è sta? Il timer... Lo vedi? Ehi si chi cazzo lo vede? Questa cosa si è short... Vabbè vedi te eh? Mi senti mi si far... Dov'è? Di qua dovrebbe essere... 4 minuti Abbiamo 4 minuti... Speriamo che in 4 minuti finisca di cuocere... Quante... Quante robe abbiamo cotto? Stai creando qualcosa? Mi sono creato un piccone... No perché hai creato il piccone? Non serviva... Si? Che serve? Credo due spade in ferro intanto... Ah mi serve... Fammi un culo... Samu al tieni? Prendi questa... Gli stick dove cazzo sono finiti... Ce li hai... E da un po' mi faccio qualche torch... Cazzo profilo di mio figlio... Come quattro minuti? Sì ti ho detto che mancano quattro minuti... Così... Quasi tanto è passato... Quanto pare... Dio mio... Dio mio... Da me ne ho tipo barato... Eh sì... Certo... Come fa a mancare così poco? Siamo messi bene... Non ti preoccupare... Non ti preoccupare... Vini su... Vini su... Vini su... Che cos'hai tu... Come armor... Niente? Niente... Un piccone... E' una spada... Che non c'è niente più... Vieni su... Vieni su... Ti prego... Ti piace del ferro... Quindi tu non hai niente adesso... Ti senti due creare dei piedini... Eh... Un elmetto ti manca... Un elmetto... Ok... Ho tutta l'arma... Vini su... C'è l'arma... Aspetta... Aspetta... No... No... Samuels non c'è tempo... No... Eh... Attento dai... Tutto quello che ci sarebbe... Ce l'abbiamo... Eh... Se vuoi prestare... Quanto ferrai? Quanto ferrai? Io... Quattro... Bastare manzo... Vieni su... Che l'aggostoso... Ok... Questo lo metto qui... Questo lo metto qui... Tanto non serve... Eh... Il cibo? Eh... Il cibo te l'avevo dato... Eh... Bisogna cuocerlo... Speriamo che ce la fai... In così poco tempo... Che se mi sa di no... Vediamo quanto manca... Un minuto... Un minuto... Un minuto... Ok... Eh... Spostati... Spermettiti lontano... Per favore... Allontanati... Bravo... Un poco cibo... Che Dio ce l'avano di buona... Cazzo cuociamo il cibo... Si stupido... No... Eh... Cosa ho fatto io... Messo a cuocere... Non è vero... Mancavano del cibo... Da cuocere... Inche a me sta venendo... Un minuto di pancia Gianmarco... Dovrò fare la cacca... No... Non dare adesso... Ah... 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 Volevo fare ultimi preparativi... Hai qualche livello... Cinque... Che incertete la spada... Oh... No... Non posso incertare... Quanto ferro abbiamo... Quello lì... Quindi faccio un piccone in ferro... Non si sa mai potrebbe servire... Mmm... Non so che cazzo mi è uscito... Tieni guarda... No... Che merda... Vabbè... Prendi lo stesso... Fa schifo come un chance... Però... Eh... Samuel... Ascoltami... Si sta... Adesso si fa così... Si sta vicini... Chiappa contro chiappa... Chiappa contro chiappa... No... Scherzi a parte... Prendiamo un po' di fornaci... Che potete... No... Si... Ne prendo giusto due... Prendo la crafting table... E ce ne andiamo... Va bene... Tu... Tu mi stai vicino... Eh... Sicuramente che qua non ci sia niente di troppo importante... Queste le prendo io... Le string... No... Bon... Sta roba non ci serve... Mi sa che saranno quelle... Hai fatto tutta l'armatura... Si... Mi sa che sono caduti i muri eh... Mi sa anche o no... Si sono caduti... Sono caduti... Metti a far... Puoi mettere a far adesso... Eh... Guardami le spalle... Dove sei? Si... Muoviti... Si... C'è il far... Ok... Ah va... Cucciati... No no... Fai fai fai... Premi shift... Che falle... La mia ragazza vuole che la chiamo... No... No... Non siamo... Non adesso... Eh... Devo andare veloce... Eh... Che cazzo... Digli aspettate un attimo... Eh... Non può... Deve andare via... Tra poco... Dai Samu... Non puoi abbandonare me... Adesso siamo in guerra... Vieni con me... Sbrigiamoci dai... Lasciamo... Lasciamo... Sì... Vieni con me... Qua non c'era nessuno... Dai... Ah il cibo tu ce l'hai? Mmm... Tieni... No vabbè no no... Per te per te non per me... Oh... Ma ci sono loro nel cielo... Dove cazzo sono? Non sanno che sono posati 15 minuti... Shiftati 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 shiftati... Shiftati shiftati... Ci sei? Sono lontano... Dai vai dritto... Sempre dritto... Dai andiamo a dirci di lì... Sempre dritti... Shiftati... Shiftato... Shiftato... Dai... Oh che c'era? Ma loro stanno giù? Mi sono chiusi... Non c'è nessuno... Ah qua ce n'è uno... Altro che non c'è nessuno... Ok abbiamo ucciso uno... Uno fuori... Oddio qua sotto starà qualcuno... Vedo qualche cosa lì sotto... Guarda... Oh bello possiamo fare... Aspetta... Aspetta un attimo... Riomino... Sì... Tutta un attimo... Perchéva strano... Non c'è nessuno... Oh... Sì... Ah... Sì... Nelto... Un attimo che sanno... Solo, che sanno... Siamo Samuel aspetta non vieni qui allora Andiamo indietro Coprimi Samuel Coprimi Che merda Tieni questo anche se non hai frecce Perché ce le mi servono a me Ho della TNT Cerco di fare Delle leve Delle leve è vero Ok Samuel Torna indietro Via 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 nascosto Via 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 Oh morto No no Samuel Samuel Calma calma Ok ne è rimasto uno Avevano una spada in diamante Samuel Cazzo Cazzo Vieni User join the channel User was moved to your channel User was moved to your channel UJ dai Hai pugni nella schiena Secondo te ne ho riconosco l'otto E' il pugno di lato Ma chi è rimasto che ho solo Eh max E basta E' comunque eravate in ferro incentato stranze No 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 Che cazzo dice Eh aveva no una spada in celtata almeno ce l'avate Sì ma una spada in celtata con ock becuno Oh no Ho perché mi avete detto Ho beccato ho beccato qualcuno Ho beccato qualcuno che aveva Che aveva Ho beccato qualcuno che aveva una spada in diamante non so chi Io ho io Ho beccato una mappa di prima del kaboom Adesso zitti per favore un attimo Sto ancora registrando Voglio ricordarvi Max come cazzo si è messo è inutile Bello come Max è morto Samwell Samwell non può parlare Samwell Samwell battaglia finale C'è la battaglia finale C'è la battaglia finale Battaglia finale finale C'è la battaglia finale Battaglia finale C'è la cittura per gli amici Devo combattere tra di noi Pronto Alla nostra lato c'è tipo un buco di TNT Oh ok sei pronto Con autoclick Samwell infatti Di gianto autoclick farema Er di salami supermatti Vabbè allora Anche spiadi venga Vabbè allora Vabbè allora Sfali diamante non potrei fare nulla E' una di Skyro che è una di Skyro Cos'è Freddy Justine da te Ok basta non ha mai di gianto e c'è la vera la testa di gioco scusate scusate dai che ho qui il video salute saluta di tutti quanti armonia armonia c'è ma non può salutare perchè tu è impiegato con la sua ragazza metà partita mia sino verso la fine mi ha lasciato pro e stai spero vi sia piaciuta questa spero vi sia piaciuta questa breve partita per quanto possa essere lunga partita su walls pvp come vi ricordo se volete consigliare qualche mappa pvp bella scrivetelo nei commenti poi provvederò a farle e non altro da aggiungere ci vediamo al prossimo video e ciao a tutti